Nel Museo di Ocesiano di Padova si cerca Carlo Rizzonico, divenuto Papa con nome di Crevente XIII nel 1758, con opere di Menx, Batoni, Piranesi, Canopa e Oreficerie. Nato a Venezia nel 1693, compì i suoi studi presso i Giosvidi di Bologna e si lavorò in giurisprudenza nel 1713, divenendo Vescovo di Papa dal 1743 al 1758. Fu il Papa che divise in ogni modo la compagnia di Gesù che le corti europee volevano sopprimere, anche a causa delle sue idee illuministe appoggiate da Spagna e Portugano. La sua opera diplomatica non andò a buon fine, nonostante l'ausilio di Federico II di Prussia, morendo prima del concistoro, non poteva evitare lo scioglimento della compagnia, avvenuto nel 1773.